Lo sapevate che la malattia più diffusa al mondo è l'amore? Papà! Ho preso una decisione che cambierà la mia vita per sempre. Divento eterosessuale. Non l'ho capito. Allora papà, c'è uno che mi piace, il sordomuto. Mi stai prendendo in giro, stai scherzando? Stai con uno di 50 anni. Eh ma, e che cazzo? Ci ho messo 20 anni ad abituarmi ad una figlia lesbica e adesso tu rimani lesbica. A 50 anni è normale avere la sindrome di Peter Pan. Sì, ma non uscire che un campanellino. Posso chiamarti Francesco? Cecco? Cecchino? E vanno azzo. Adesso capite perché volevo un figlio maschio. Con Sara c'eri quasi riuscita. Il film è uscito da poco, insomma, il weekend scorso è uscito ed è presente in 400 sale e fortunatamente, insomma, sorprendentemente sta facendo degli incassi molto molto alti soprattutto per media copia in sala e quindi non so quanto terrà, speriamo tanto, però insomma c'è questa sfida con Scorsese che è un film che è andato benissimo, però in realtà siamo secondi ma stiamo reggendo bene. Ma poi chi te lo dice che gli uomini siano meglio dalle donne? Oh, all'inizio è sempre meglio che sia l'uomo a condurre il gioco. Prego. Io ti aspetterò attaccata, attaccata, attaccata al cittacolo. No, un po' meno. Eh però te lo fa tardi, eh? La via di mezzo. Io vorrei tanto farti salire e dartela subito, ma siccome il mio analista sostiene che voi siete quasi tutti stronzi, allora preferirei che aspettare e magari dartela la prossima volta se per te non ha un problema. Ma chi gli hai fatto gli occhi dolci? A me piace veramente tanto, ma non so come prenderlo. Oh, ma che cos'hai? Mi sono rotto i coglioni. I padri devono fare i padri, non gli amici. Lo volete capire o no? Sia immaturi che questo film sono delle storie intrecciate. Il tema, in quel caso l'immaturità, in questo caso l'amore, è così vasto che mi piace raccontarlo nello stesso film da più punti di vista. Sarebbe stato, secondo me in questo caso, ma non sempre, in questo caso è limitativo raccontare solo una storia. Invece in realtà tre storie riescono da tre punti di vista completamente diversi a raccontare la differenza in amore. E quindi mi piaceva molto l'idea di un film corale. Com'è nata l'idea di questo film? Ma sai, l'idea, è sempre difficile capire come nascono le idee, non lo so. A un certo punto ho cominciato a scrivere la prima storia e mi divertiva molto l'idea di raccontare una lesbica che diventava etero, cioè un percorso al contrario. Di solito viene sempre raccontato l'outing, una persona etero. Invece l'idea di un percorso al contrario mi piaceva. Quindi ho cominciato a scrivere questa storia. Poi ho cominciato a scrivere la storia del sordo muto, mi piaceva indagare la diversità e poi piano piano, piano piano si sono completate queste tre storie. Però non c'era un'esigenza precisa. Chiudo con le donne. Che vuol dire? Vuol dire che chiudo. Papà io ci provo, mi impegno, mi sforzo, ma non funziona. Allora cambio, provo con gli uomini, magari va meglio. Divento etero, papà, capisci? Etero come tutte le altre donne, sei contento? Oh, ma sei contento? No. Il titolo sinceramente mi divertiva citare la psicanalisi. In realtà è una commedia, non è un film sulla psicanalisi. Giallini fa lo psicanalista, ma è molto metaforico il suo ruolo. Quasi a voler dire, il film è un rapporto padre-figlie. Però ricordare la figura dell'analista vuole ricordare quanto sia difficile capire i propri figli in generale e quanto tanti genitori vorrebbero magari 100 lauree in psicanalisi per capire i propri figli e nonostante tutto lui che fa lo psichiatra non riesce a capirci un granché. A me è ricordato molto le vecchie commedie italiane, perché non si ride solamente, ma si riflette, c'è anche il senso della famiglia, dell'amore. Insomma, è stato pensato sotto così? Ma ora, sì, nel senso che la commedia è così, cioè la commedia dovrebbe far ridere e riflettere, è sempre stato così. Poi ci sono dei film che si chiamano commedie, ma erroneamente sono film comici, senza nulla togliere, sono proprio due generi diversi. Il film comico, il film di Natale, tanti ce ne sono, i film comici, questo Natale ne abbiamo avuti svariati, fanno ridere e vai per ridere. Poi, come va a finire, è relativo, cioè se Christian De Sica è la Ferilli, dico per dire l'ultimo, si lasciano o meno, non ti importa più di tanto. La commedia da sempre è un genere dove viene affrontata comunque la realtà, con l'ironia, con la leggerezza, con il sorriso, però c'è una realtà. Accanto al divertimento della commedia necessariamente ci deve essere l'emozione, ci deve essere un contenuto. La Ostocina è piena di commedie molto importanti, cioè i soliti ignoti, era una commedia, con Salvatore, scommediterraneo, che era una commedia, abbiamo vinto un Oscar e via dicendo. Per me fare il malvivente o comunque il poliziotto duro, quello che ho fatto, che ne so, dico Acab, Romanzo, Doretta, no, insomma, ho fatto svariati banditi. È un po' più semplice, ma non perché io sia un bandito, è perché, insomma, sai, se vivi in una realtà fino a una certa età, così, assorbi, vedi, fai, pure, allora conosci bene quel mondo, diciamo che il mondo della psicanalisi è un mondo che mi era un tantino più lontano, ecco. Però poi faccio l'attore e allora ho visto un po' di cose, ma sai, poi io ho studiato l'edizione, no, quando ero ragazzo, anche se non si sente, però allora ho cercato di mettere in pratica tutto, cercare di essere un po' più forbito, un po' più nei movimenti, camminavo un po' a papera qui, io non cammino, io cammino anche, anzi, un po' con i piedi in dentro, addirittura, perché giocavo a calcio, allora camminando un po' così, invece lì cammino proprio così, alle 10 e 10, poi cammino quando corro, visto come faccio, in realtà sono un po' meno goffo. Emma è una ragazza di 18 anni, sta per fare la maturità, intraprende una storia con un uomo di 50 anni. L'interpreto Alessandro, è un architetto ed è sposato. Lui lavora in un grandissimo negozio di arredamento, decidono insieme di sfruttare questo luogo di notte per avere i loro incontri amorosi. E io mi innamoro, anche se abbastanza platonicamente, della moglie. Io sono Claudia e la vediamo attraverso gli occhi del protagonista, che la vede tutti i giorni, esce dal bar, fa colazione quasi sempre nello stesso tavolino, la vede passare con il cane, quasi un amore a distanza. C'è della polemica. Marta fa un incontro molto particolare, con un ragazzo molto particolare, interpretato da Vinicio Marchion. Entra nella sua libreria e si ruba dei libretti d'opera. Attraverso questi piccoli furti inizia praticamente la storia d'amore tra Marta e Fabio. La cosa molto difficile è stata trovare l'equilibrio tra un handicap e la sua risoluzione all'interno di questo film, all'interno di una storia d'amore. Io cerco di trovare un fidanzato per Sara. Personaggi inquietanti, che partono bene ma finiscono malissimo, oppure se partono bene loro e finisco male io, fino a che non incontra Luca, il personaggio interpretato da Dianeliotti. Ha come caratteristiche la semplicità, la simpatia, anche il romanticismo. Papà, lui è Alessandro, Alessandro papà. Buonasera. Preciso, preciso. Vabbè, io vado che devo finire di fare i compiti. Ciao Ciccino. Ciao. Lavorare con tre donne, tre figlie. Beh, insomma, sono tre, parte la più piccola che l'ho conosciuta adesso, sono due ragazze che stimo molto, a parte Claudia, insomma, che siamo ormai una coppia di fatto. Per il resto, vittoria, pure ho scoperto essere una bravissima attrice, bellissime scene, molto romantiche. Anna è un'ira di Dio, una bomba comica. E non è facile per le donne. A me le donne non mi fanno ridere. Mi piacciono, ma non mi fanno ridere. Non mi fanno ridere. No, no, non è mai successo, purtroppo. Avrei voluto, avrei voluto. Mi hanno fatto piangere per altri motivi, ma non per quelli, magari. Avrei voluto piangere un po' per una donna. Mettami a piangere proprio. Dove sta? Ti hai pianto, te vedo, per le donne. Eh, si vede, si vede, c'è un animo gentile. In a world that we can have better than before.